Carissime compagne e compagni, carissimo Alexis, mi dispiace davvero molto non essere presente fisicamente lì, ma voglio far giungere il mio messaggio affettuoso di amicizia al vostro congresso. Io sono particolarmente legato alla Grecia, particolarmente legato al popolo greco, abbiamo fatto tante battaglie insieme, è stata memorabile la battaglia contro coloro i quali volevano cacciare la Grecia dalla zona Euro, è stata una battaglia difficilissima, quanti avversari abbiamo avuto, i falchi del rigore, eppure l'abbiamo vinta perché siamo stati uniti, noi socialisti e democratici al Parlamento europeo siamo stati all'avanguardia per vincere questa battaglia perché non era giusto, la battaglia contro l'austerità non è finita e appena iniziata dobbiamo archiviare la stagione, l'austerità, dobbiamo creare più lavoro per i giovani, bisogna creare più condizioni per investimenti pubblici, bisogna affrontare le grandi sfide che ci stanno mordendo la gola, che ci stanno piegando, che ci stanno mettendo a dura prova dalla sfida all'immigrazione. Io so quanti sforzi si stanno facendo in Grecia, in Italia, perché Grecia e Italia sono i paesi più attaccati da questa grande sfida e stanno reagendo in maniera positiva, in modo solidale. Dobbiamo affrontare il grande tema dell'equità e della lotta all'evasione e all'elusione fiscale e dobbiamo affermare una nuova agenda sociale, un'agenda sociale che privilegi le persone, i bisogni delle persone, quanta povera gente c'è in Grecia, quante persone che vivono in condizioni di indigenza c'è in Grecia, ma in Italia, in altri paesi d'Europa eppure a Bruxelles c'è qualcuno che pensa ancora agli zero virgola, non valgono gli zero virgola, valgono le persone, i diritti delle persone, i bisogni delle persone. Su questo terreno possiamo lavorare insieme. Caro Alexis, tu sai perfettamente che io appartengo ad una famiglia politica diversa, che io guido un gruppo parlamentare nel quale non vi sono esponenti del tuo partito, ma vi sono esponenti della famiglia socialista del PASOC, della famiglia progressista di Topotami e con i quali peraltro ho una splendida collaborazione, ma questo non impedisce di collaborare con voi per il bene della Grecia. Io sono al vostro fianco perché sono al fianco del popolo greco e auspico insieme di vincere la grande battaglia per dare una prospettiva nuova alla Grecia e per salvare l'Europa.